Rimessa lunga di Fiorentino, la palla arriva al centro dell'aria, ancora un colpo di testa, gran tiro! Ed è il gol! Un tiro in corsa, deciso! Lo vorremmo vedere anche sulla sinistra lo stesso gioco del mister Pisano. Grazie mister Ranieri, intanto attenzione, autogol! Autogol da parte del Montepaone su un cross da sinistra, c'è sembrato di Cosentino. Destro di Mellace, parla al centro dell'aria, recupera il pallone, gran tiro! Esplode, esplode il Frabotto Mannis con Stagliano che di sinistro mette la palla nel sette dove non poteva arrivarci Di Marco e al dodicesimo minuto il Montepaone, un abbraccio collettivo in panchina, si riporta in vantaggio. Fa risalire un po' tutta la squadra e poi cerca di servire Condito, tocco all'indietro Marco Voci, evita il portiere, mette la palla in mezzo, Marco Voci! Ed è 3 a 1, entra e mette il sigillo Marco Voci su una partita al quarantesimo con freddezza e decisione. E lui il bomber, ancora Marco Voci. Campionato di promozione, il Montepaone batte per 3 a 1 il Taverna. Il bello è la promozione che la sala stampa affolla, ma la disponibilità di mister Folino è proverbiale. Complimenti, una bella partita. Avete perso, però, insomma, c'è la possibilità di dire la propria in questo campionato. Sì, certamente. Io sapevo che venivano qua a Montepaone e avevo sette assenze, quindi avevo assenze per una squadra come la mia che si deve salvare. Erano pesanti, però sapevo anche dei valori tecnici e morali che ha questa squadra, perché eravamo, infatti ho fatto un solo cambio, uno alla fine, quindi non potevo chiedere più ai ragazzi perché ci siamo giocati la partita con un Montepaone. Il solito Montepaone e penso anche il solito Taverna, perché andare fuori casa in promozione e creare 4-5 occasioni non è facile. Avevamo un'assenza importante, quella di Cariati, un altro attaccante che io di solito gioco a un tre punto, quindi forse da quel punto di vista pesava negli spazi che lasciava in Montepaone, infatti solo Davide, là forse era un pochino poco, però purtroppo la squadra era questa, oggi mi sono dovuto accontentare. Però ho detto alla squadra che dobbiamo stare in partita, penso che ci siamo stati alla grande perché sul 2-1 abbiamo avuto quella doppia occasione, del 2-2 là la partita poteva cambiare. Poi abbiamo perso 3-1, sono distante, però io in questo momento guardo il calcio, guardo i valori a questa squadra e penso che possiamo dire la nostra. La società mi ha chiesto una salvezza anche ai play-out all'ultima giornata, però io credo nello sport, credo nel calcio, quindi penso a giocare a calcio, quindi creeremo così i presupposti perché giocheremo sempre fuori casa, perché giocheremo a Curto di Lido che non è in casa, quindi se vogliamo salvarci dobbiamo cercare di giocare a calcio e cercare di vincere le partite non col fattore campo ma sul gioco, quindi oggi ho visto delle buone cose da questo punto di vista. Comunque i tifosi c'erano e vi seguiranno dovunque, giusto due flash mister, un ottimo di Marco e un mister che nonostante la febbre, questo lo possiamo dire, è lì in campo, questo è il cuore che serve al taverna? Questo, io devo essere quello che anche con la febbre devo essere presente perché devo dare la sensazione che non si molla niente. I ragazzi mi hanno interpretato benissimo, infatti anche loro, quasi tutti i 90 minuti, non li avevo nelle gambe perché avevamo, con i cinque campi sai, in questo campetto di promozione io sono abituato a farli tutti perché penso che in questa stagione, quando la condizione non è al top né nostra né quella del Montepaone, sicuramente i cambi potevano fare la differenza, infatti il cambio del Montepaone, voce, ha fatto la differenza, è conto. Benvenuto Montepaone in promozione, abbiamo Alessandro Pisano, un 3 a 1 importante, un primo mattoncino per costruire una classifica che faccia parlare il Montepaone anche in promozione. Sì, poi la classifica la vedremo partita dopo partita, noi ci tenevamo a fare bella figura oggi davanti al nostro pubblico per completare questo cerchio che abbiamo formato in tre anni, questo è il terzo anno che sono qua e devo dire che se prima non avessimo iniziato il campionato di promozione quasi nemmeno ci credevamo di quello che abbiamo fatto, oggi si chiude un cerchio ma allo stesso tempo vogliamo dire la nostra, vogliamo misurarci con squadre blasonate, con squadre importanti. abbiamo iniziato bene perché devo dire la verità, ho visto un approccio importante da parte di tutti i ragazzi, ho visto i nuovi che si sono amalgamati molto bene, trascinati dai giocatori che già erano in questo gruppo, che per me sono imprescindibili e che sono i giocatori più importanti di questa rosa e sono sicuro che porteranno questa squadra a fare un'altra, è l'ennesima grande stagione. Esce Stagliano, entra Marco Voci, significa che lei è Allegri, avete una bella panchina. Sì, quest'anno non c'è assolutamente dubbio, non la reputo panchina perché oggi è stato fuori Marco, domani sarà fuori un altro, Marco per noi è fondamentale e quindi io sono contentissimo di averlo in rosa e di poterlo utilizzare e appena sarà nelle condizioni migliori per giocare, ha dimostrato oggi che il giocatore è, quindi entra e chiude una gara esattamente come io gli avevo chiesto prima che entrasse, credo che sono in pochi che possano fare queste cose. Un'ultimissima battuta, lei aveva chiesto ai suoi giocatori perché noi ascoltavamo in nascosto dagli spogliatoi, anticipateli, hanno fatto così nei contrasti, in anticipo perché è difficile ma è più importante. Beh, bisogna anticiparli perché così si arriva più velocemente alla porta avversaria, noi tendiamo sempre ad avere un gioco che prediliga a fare un gol in più e non magari prenderne uno in meno, quindi comunque se riusciamo ad anticiparli abbiamo più possibilità di arrivare in porta.